Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, un saluto da Mr. Pete, grandissimo Napoli, siamo passati dal meno 7 al meno 4, partita strana, partita nervosa, critiche ad insigne, secondo me, ingiuste, è stato uno dei pochi che ha lottato fino alla fine, come il subentrato Milik, di Avarà si salva solo per il gol, perché è stata una partita proprio sotto tono, abbiamo fatto molti errori, il calcio di rigore di Mertens poteva aprire una domenica tranquilla, invece abbiamo dovuto soffrire, però anche così, come dice mio fratello, anche così si vincono gli scudetti, andiamo avanti, forza Napoli, ci attende il Milan in trasferta, la Juve gioca in casa, con la Samp, vedremo un po' se Quagliarella ci fa qualche regalo, non voglio criticare nessuno, anche se la partita è stata troppo una partita sotto tono, del Napoli, imbrigliato nella morsa del Chievo, non mi sono piaciuti i fischi a Giaccherini, vabbè, comunque, ragazzi, bisogna andare avanti, grandissima domenica, a D Sport, per me e i miei amici del running, molti hanno portato a termine la Maratona di Milano, e altri la Maratona di Roma, un saluto a tutti, un bacio forte, forza Napoli, fino alla fine ragazzi, lottiamo fino alla fine, un saluto da Mr. Beat, iscrivetevi al canale, ciao!